Benvenuti o bentrovati amici del tubo, bentrovati ai miei iscritti, a chi ancora non si è iscritto al mio canale spero lo possa fare il prima possibile e oggi non potevo fare altro che fare questo video su questa fantastica tavola dei colori italiani come potete vedere, proprio perché ieri abbiamo vinto gli europei oggi faremo quest'uscita con Francesco e andremo dalle parti di Frosinone e faremo qualche ripresa col drone adesso lo diamo e vediamo dove sta Oh Francesco, buongiorno Buongiorno, senti, a che ora ci vediamo allora per andare a Frosinone? Guarda, per mezzogiorno è in testa Ok, senti, ma dove sta sto posto? Guarda, vicino a Frosinone si chiama Frosinone, mi chiama Serrone Ah, Serrone Senti, le viste, le mappe di seco volare possiamo stare tranquilli, no? Sì, sì, ho visto tutte le mappe, nessuna limitazione al volo, è un po' tranquilla Ok, prendiamo la nostra mascherina perché il festeggiamento continua e seguitemi ragazzi, andiamo su Ecco, Francesco Ciao, come va? Tutto bene, si parte allora? Si parte, dai San Cesario Qua il navigatore ci dice 36 minuti e siamo quasi arrivati E' un bel paesaggio, il Valle di Chieno Che dice sta Amazon? Eh sì, perché qua siamo a Colleferro, video stabilimento Qua dove andremo si vedrà dall'alto Caratteristiche pure di Serrone Molto Vediamo insieme questo panorama Ah, che bello Questo è il panorama che si presenta Senti, mi dicevi che giù in fondo, quello è lo stabilimento di Amazon, no? Esattamente, adesso faremo una zoomata Come vedete, quello è lo stabilimento di Amazon Vieni, vieni, qui c'è un cartello favorito dalla strada Se è appunto la torre di Serrone o quel che è rimasto Ah, è sì Di questo prudere Scendiamo un attimo queste scale e vi faccio vedere la torretta Ecco che Francesco ha trovato una fontanella Che sai che è l'acqua di Serrone, Francesco? L'acqua di Serrone L'acqua di Serrone L'acqua di Serrone Adesso ragazzi ci siamo spostati Stiamo a 800 metri sopra il livello del mare E come potete vedere anche le case qua cambiano Sembra di stare come in Trentino Tutte, come vedete, hanno questa struttura, no? Il legno Ragazzi non so se lo vedete ma penso di sì L'abbiamo beccato un posto dove fanno il para per Dio Adesso c'è un ragazzo che si sta preparando L'acqua di Serrone 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 Adesso andiamo su Vedete qua C'è anche questa bellissima cappellina Dove probabilmente Quando ci sono le ricorrenze Faranno anche delle funzioni Vedete anche c'è Una targa In memoria Ai caduti di tutte le guerre Vedete qua Vedete qua Guardate ragazzi che cosa ho scoperto Attraverso Francesco Questa applicazione Che si chiama Peak Finder Che ti fa vedere Le vette delle montagne E quindi quella giù in fondo Da quanto dice qua È Monte Velino Cari amici del tubo Terminiamo questo video Con questa fantastica macchina Il Phantom 4 che ho portato per voi Drone utilizzato durante le esercitazioni Nel corso basico e critico E niente che dire Ci vediamo al prossimo video Se vi è piaciuto Mettete un like Iscrivetevi al canale E ci vediamo alla prossima Ciao Mettete un like in the dark so that i see when your stars have burnt out and your heart makes no sound i'll find valid in your eyes you'll always be my night sky you